Salve, vorrei spiegare nei dettagli perché la struttura argomentativa elenctica proposta da Severino non è una semplice dimostrazione per assurdo, ma qualcosa di più radicale, capace di confutare, di smentire tutte le possibili infinite obiezioni alla struttura originaria, alla struttura determinata dell'opposizione del positivo e del negativo. Allora, in essenza del nichilismo, Emanuele Severino ha mostrato che vi sono tre possibili forme di obiezione all'opposizione. C'è l'obiezione universale che nega l'esistenza dell'opposizione in toto, poi vi è la negazione, potremmo dire, relativa e poi vi è quella particolare. La prima forma di negazione si autonega perché, per significare, deve distinguersi dall'affermazione dell'opposizione, quindi non riesce ad essere una negazione totale dell'opposizione. Allora, la seconda forma di obiezione riconosce che l'opposizione deve esistere in una porzione di realtà, ma ritiene che in un'altra possa non esistere, e quindi divide idealmente la realtà in due insiemi e in uno ritiene che esista l'opposizione, in un altro no, e ritiene che l'opposizione non esista che all'interno dell'insieme in cui è stato stabilito esservi. Come si mostra che anche questa negazione dell'opposizione non riesce ad essere determinata, cioè non riesce ad affermarsi in modo corretto, perché non riesce a porre questi due insiemi senza porre la differenza tra l'uno e l'altro che implica la presenza dell'opposizione anche al di fuori dei due insiemi, quindi non solo all'interno di uno dei due. Se infatti non ci fosse l'opposizione tra i due insiemi sarebbe falso che i due insiemi sono differenti e che quindi per l'uno vale l'opposizione e per l'altro no. Infatti che per un insieme valga l'opposizione e per un altro no lo si può affermare e stabilire solo se intanto si pone una differenza tra i due insiemi, una distinzione, un'assenza di differenza vorrebbe automaticamente dire una piena coincidenza perché questo vuol dire negare la differenza e apro e chiudo una parentesi la struttura determinata dell'opposizione è tale per cui l'identità e la differenza sono due tratti co-originari il che vuol dire che non c'è una precedenza dell'uno sull'altro o una fondazione dell'uno da parte dell'altro l'identità implica il suo differere dalle altre e il differire delle varie identità è possibile rispetto a loro rispetto a un'identità che può darsi il suo differere dalle altre ma senza stare insieme nessuna delle due parti sarebbe tale l'identità non sarebbe identità e la differenza non sarebbe differenza questo è ciò che fondamentalmente esprime la struttura originaria ora l'ultima forma di negazione è quella particolare cioè quella che riconosce che pur dividendo la realtà idealmente in due insiemi non possa l'opposizione valere solo all'interno di un insieme e non anche tra i due insiemi allora questa terza forma di negazione riconosce le necessità prima illustrate e però ritiene che in una parte circoscritta della realtà possa non valere l'opposizione ora per non valere anche solo in un caso specifico l'opposizione dovrebbe esservi la seguente condizione che dei differenti non siano differenti perché solo in questo caso si avrebbe un'effettiva violazione del principio di opposizione cioè la condizione per cui dei differenti non fossero differenti è l'unico modo che darebbe evidenza e prova del fatto che non esista opposizione tra quegli elementi che quindi per quegli elementi non valga l'opposizione se non che nella misura in cui occorre implicare la differenza occorre implicare dei differenti si sta già affermando il loro differire quindi la differenza tra loro si sta già affermando implicitamente e risulta essere la condizione necessaria per poter prospettare la loro non differenza quindi la negazione della loro differenza si fonda sull'affermarla implicitamente e quindi è per questo che non può riuscire a negarla perché se la negasse negherebbe la sua stessa fondazione quindi si profonderebbe nell'autonegazione e in realtà non riesce neanche ad autonegarsi si autonegherebbe se per assurdo riuscisse nel tentativo di negare quello che intende negare ma in realtà non riesce neanche a far questo non riesce perché la fondazione che è l'affermare la differenza è ciò che permette la possibilità la prospettazione di negarla quindi il tentativo di negarla è subordinato a questa assunzione implicita che viene affermata come vera e necessaria dalla stessa negazione perché se infatti i differenti non fossero originariamente posti come differenti non si potrebbe prospettare la mancanza della loro differenza in altre parole i differenti devono innanzitutto essere effettivamente differenti il che implica che ognuno di loro sia identico a sé e differente dagli altri che quindi sia conforme all'opposizione quindi per negare che per loro valga l'opposizione essa deve già valere a monte, a priori e quindi questo dimostra l'impossibilità che l'opposizione non sia vera e non sia necessaria in ogni caso quindi in ogni porzione della realtà se in questa terza forma di obiezione non si ponessero dei differenti si porrebbero degli elementi di cui non si avrebbe in alcun modo la possibilità di negare la loro conformità all'opposizione infatti se non si ponessero degli elementi come differenti in tal caso allora negare la differenza dei non differenti non dimostrerebbe in alcun modo la violazione dell'opposizione cioè per avere una negazione determinata dell'opposizione occorre che sia dei differenti che si neghi la differenza non dei non differenti perché che dei non differenti non abbiano una differenza tra loro non è qualcosa di contrario all'opposizione ma anzi è ciò che vi si conforma e andrebbe specificato che gli assolutamente non differenti sarebbero in realtà la stessa e coincidente cosa già che se affermassimo che vi sono ipotetici elementi in alcun modo differenti tra loro cioè che non hanno nessuna minima differenza di alcun tipo staremmo implicitamente affermando che trattasi dello stesso e unico elemento che coincide con se stesso infatti l'assenza totale di differenza come già ho spiegato prima è la coincidenza piena e la differenza esclude una piena coincidenza quindi in conclusione i non differenti sarebbero implicitamente in realtà lo stesso elemento che coincide con se e quindi esso non sarebbe una violazione dell'opposizione ma sarebbe conforme perché che un qualcosa sia identico a se è ciò che viene affermato dall'opposizione quindi per negarla come dicevo bisognerebbe avere dei differenti e poi dimostrare che dei differenti non siano differenti che quindi per loro non valga la differenza però come già spiegato questo caso richiede come vero quello che intende negare e lo invera quindi a un livello implicito perché mostra che non può farne a meno e se quindi queste forme di negazione dell'opposizione non possono fare a meno di affermarla come vera allora in ciò si mostra la necessità che quell'opposizione sia vera e in particolare la terza forma di obiezione in verità è la più radicale perché è quella che nega l'opposizione in quanto tale a prescindere dal fatto che valga per un caso o per tutta la realtà quindi la terza forma di negazione portandosi in autonegazione attraverso l'argomentazione elettrica severiniana rileva che è impossibile per qualunque caso violare l'opposizione perché si mostra che la condizione trascendentale per avere un qualunque contenuto determinato è l'opposizione e che per poter violare l'opposizione occorre che un contenuto sia determinato e determinato in un certo modo come ho spiegato prima ora perché dico che queste tre negazioni delle negazioni dell'opposizione coprono tutti gli infiniti casi possibili di negazione dell'opposizione perché nessun caso possibile prospettabile potrebbe evitare di ricadere in una delle tre circostanze cioè di appartenere a una delle tre forme di negazione in particolare la terza che in realtà è inclusa in tutte perché la terza l'ultima è implicata nella prima e nella seconda perché nella prima sebbene si affermi la negazione universale dell'opposizione beh si sta dicendo che per ogni caso della realtà non vale l'opposizione nel secondo caso si sta dicendo che per una parte di realtà vale l'opposizione per un'altra no ma fondamentalmente in ognuna delle tre circostanze quantomeno di un aspetto della realtà si va a sostenere che non valga l'opposizione una volta mostrato con il terzo caso la sua autonegazione beh si mostra che allora questo vale per tutti gli infiniti altri casi e non ci possono essere altre possibili obiezioni che non rientrino nel range di una di queste tre obiezioni e allora ribadisco che l'argomentazione elenctica severignana non è solo una dimostrazione per assurdo perché qui si mostra proprio la necessità non autoreferenziale non ipotetica che in effetti la struttura originaria sia la condizione di possibilità per affermare qualunque contenuto determinato e questa non è una semplice tautologia cioè affermare che ogni cosa è se stessa ed è differente dagli altri non è una tautologia al contrario nel discorso di severino intendo non è una tautologia perché si mostra il motivo per cui non è possibile altrimenti e in più si mostrano anche le estreme implicazioni di quella costatazione che arrivano ad affermare l'eternalismo radicale quello che afferma che tutti gli aspetti della realtà siano necessariamente eterni in modo atemporale perché altrimenti si affermerebbe una forma di divenire non eternistico che in qualunque modo venisse letto interpretato e congetturato porterebbe alla negazione di qualche aspetto della realtà quindi della sua identità e del suo differire e ipostatizzerebbe in qualche forma in qualche modo il nulla come condizione ontologica alternativa all'essere paradossale contraddittoria e implicherebbe anche il passaggio e poi la coincidenza impossibile autonegantesi tra l'essere e il nulla tra il nulla e l'essere per i vari aspetti della realtà implicati nel divenire l'essere a l'essere l'essere